Ho deciso circa dieci anni fa di lasciare un lavoro stabile per passare a creare un qualche cosa di mio e se avendo una certa esperienza per tutto quello che era il web e la vendita sul web ho deciso di aprire uno store per la vendita su ebay e seguire le tendenze di mercato. Di anno in anno ho aumentato la mia categoria di prodotti passando dall'elettronica fino all'arredamento, al design, ai divani e a tutto quello che essenzialmente aveva un mercato fino addirittura a arrivare alle macchine da Pilates. Ho aperto nuovi canali come Amazon Italia, Amazon Europa e alla fine anche Amazon America e sto di anno in anno crescendo con tutte queste nuove tecnologie. Negli ultimi anni ho deciso di oltre a migliorare la parte di piattaforme che sono quelle che sono più facili per partire perché non hanno bisogno di investimenti iniziali di lavorare sul mio sito e di migliorare la fidelizzazione dei clienti. La cosa che posso dire è uno che parte adesso è cercare i canali in cui gli investimenti sono bassi e che ti portino la pubblicità e il marketing direttamente e piano piano creare un'attività di fidelizzazione del cliente di Customer Service perché è la cosa più importante.